Non sarei tanto sicuro se questo è lo scopo. Lo scopo è la comunicazione. Tramite la comunicazione le identità e apprendosi si arricchiscono. Culture che rimangono chiuse nei propri confini, abbiamo l'Albadia per esempio o abbiamo i paesi ex sovietici, sono culture destinate perché il mondo dove l'unica cosa che rimane stabile è l'instabilità, non può permettere di di chiudersi. Chiudersi significa un rinno.